Grazie a tutti. I giorni scorsi la giunta regionale ha approvato un disegno di legge. Critico TED e proposta rinvia ogni futura scelta alla giunta, dice. Concorsi per l'assunzione di personale, 10 nuovi vigili prorogati al 30 giugno. Il motivo sarebbe l'esiguo numero di domande pervenute. Forza Italia attacca l'amministrazione e parla di innesimo pasticcio. E ormai tutto pronto per il Rally Italia a Sardegna. Oggi l'apertura al pubblico del Service Park, il Villaggio Ace e quello Expo nell'area portuale. Il Panatron intanto, come da tradizione, ha dedicato una conviviale all'evento. Ben trovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Tre anni di ritardo abbiamo titolato così per parlare del disegno di legge approvato nell'ultima seduta della giunta regionale riguardante 40 milioni da destinare a campagne di promozione e comunicazione nel sistema del trasporto aereo. Dopo tre anni l'Aggiunta Pigliaro decide così di intervenire decisamente in ritardo. E questo inevitabilmente ha riacceso le polemiche. Consolidare flussi turistici nei mesi di spalla attraverso una campagna che prevede azioni di promozione mediante l'utilizzo del sistema complessivo del trasporto aereo, quale canale di comunicazione e quanto prevede il disegno di legge approvato nell'ultima seduta dalla giunta regionale su proposta dell'assessore al turismo e commercio artigianato Barbara Argiolas, 40 milioni distribuiti tra il 2017 e il 2020. Utilizzeremo il sistema complessivo del trasporto aereo, cioè le compagnie aeree nazionali e internazionali, le concessionarie di pubblicità, le società di marketing, la promozione negli scali nazionali ed esteri. Lo riteniamo lo strumento più idoneo e strategicamente importante per rafforzare ancora il turismo e proporre la destinazione Sardegna nei mesi non interessati dal balneare, ha spiegato la titolare del turismo. Dopo l'approvazione del testo da parte del Consiglio regionale, la giunta definirà con apposita delibera le direttive di attuazione che disciplineranno le modalità degli interventi, con particolare attenzione alle ricadute sul territorio regionale. Insomma, non si prevedono tempi brevissimi, anche se da più parti si chiede di accelerare e soprattutto l'intervento della regione, ritenuto tardivo, ha riacceso le polemiche. Speriamo che quest'ulteriore tentativo per incrementare il turismo nella bassa stagione vada a buon fine, anche se è evidente che parte col piede sbagliato, senza uno straccio di progetto o di idea, tranne quella lapalissiana che occorre promuovere l'offerta turistica nei mesi di spalla. Ma come? Si chiede il Consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde. Si tratta solo di un disegno di legge per il vero oltremodo laconico che propone al Consiglio regionale distanziare 40,8 milioni di euro al buio per destagionalizzare i flussi turistici, rinviando alla Giunta regionale per la scelta dei criteri e interventi. Giunta che, ricorda Tedde, per tre anni e mezzo non è stata capace di varare uno straccio di pieno di incentivi a low cost che è comunque consentito dalla disciplina comunitaria. In secondo luogo, non dimentichiamo la decisione assunta dalla Giunta nel 2016 di investire 6 milioni per promuovere l'immagine della Sardegna presso gli aeroporti sardi che era assimilabile a un'eventuale assurda decisione della Fiat di pubblicizzare le auto all'interno di fabbriche e saloni italiani anziché in tutto il mondo. Abbiamo poi visto gli esiti di questa promozione. L'aeroporto di Alghero solo nel 2016 ha perso 340 mila passeggeri mentre con 6 milioni di euro investiti nel low cost avremmo potuto avere un milione di visitatori e oltre 550 milioni di ricadute nel sistema a Sardegna e conseguenti maggiori entrate anche per le casse pubbliche in termini di IRPEF e IVA. Nel frattempo le infrastrutture aeroportuali che hanno stretto accordo e i convettori low cost gongolano. Non abbiamo assolutamente pregiudizi nei confronti del nuovo assessore al turismo, precisa Tedde, ma ci piacerebbe capire come intende investire queste imponenti risorse e in che tempi se poi, come parrebbe, questa strategia oggi oscura fosse stata concordata con l'assessore Deiano e il Presidente Pigliaru. Iniziamo a nutrire seri e fondati dubbi sulla sua efficacia e tempestività. Domani mattina in via Colombano in programma la riunione della Commissione Sanità la quale prenderanno parte i sindaci del distretto, il direttore generale dell'ASL, Fulvio Moirano. Appuntamento di domani che è stato preceduto nei giorni scorsi da un'altra riunione della Commissione Sanità con tutti i componenti sia di maggioranza che di opposizione, l'assessore Selva. Emerso un unico e accurato indirizzo di rivendicazione e lotta per difendere le esigenze della sanità nel territorio. Solo uniti si possono combattere battaglie che riguardano tutti, avere garantita un'adeguata assistenza sanitaria e un diritto degli algheresi. Non esistono colori quando si parla di salute, ha sottolineato il Presidente della Quinta Commissione, Mario Nonne. Diverse le rivendicazioni, riqualificazione delle strutture e dei servizi di pronto soccorso, radiologia, centro trasfusionale e lavoratorio, camera mortuare e sottoservizi, l'utilizzo dell'UTIC ed endoscopia, il recupero funzionale del marino, la lungodeggenza e gli ambulatori territoriali. Tutte richieste già inserite nel documento presentato alcuni mesi fa dal Sindaco, all'attenzione dell'assessorato regionale della sanità e ai consiglieri regionali con l'unica possibilità ammissibile circa la destinazione sanitaria del Presidio ospedaliero di Alghero, il primo livello. Tutte questioni che inevitabilmente verranno affrontate domani con il Direttore Generale dell'ASL, come detto che sarà appunto ad Alghero. Proroga al 30 giugno, ferme restando alle domande già presentate, per la partecipazione ai concorsi per 8 unità a tempo indeterminato indetti dal Comune. Slita al 30 giugno, anche il termine ultimo per la copertura a tempo determinato e part-time di 10 agenti di Polizia Locale. Insorge Forza Italia che dice continuano i pasticci di questa amministrazione. Il motivo delle proroghe sarebbe costituito dall'esiguo numero delle domande pervenute. Un motivo, secondo i tre forzisti, Maurizio Perisi, Michele Paese, Nunzio Camerada, sul reale e incredibile, oltre che legittimo, cimentatosi tra l'altro in un difficilissimo esercizio divinatorio circa la previsione del futuro, posto che la scadenza per alcuni profili reclutandi sarebbe scaduta il prossimo 10 giugno. Il gruppo consigliare di Forza Italia non ha dubbi, siamo di fronte all'ennesimo pasticcio che segue di pochi giorni quello dei concorsi della Fondazione Alghero. Certo, è molto difficile pensare che il segretario generale, nonché dirigente responsabile, e che nonché membro di commissione esaminatrice, abbia assunto tale scelta in tutta autonomia e deciso di stabilire il numero giusto dei candidati senza la condivisione dell'amministrazione comunale in carica, scrivono Perisi, Camerada e Paese. Di certo, una procedura assai bislacca che, se messa a sistema con le tante stranezze che stanno caratterizzando la vita amministrativa di questa consigliatura, dà adito a scenari inquietanti che non ci lasciano per niente tranquilli, anche in ordine al rigore che simili procedure devono assolutamente avere. E tali dubbi accrescono se si pensa che tali procedure mancavano del requisito essenziale di pubblicità legale e trasparenza, qual è l'obbligatoria pubblicazione di concorsi nella Gazzetta Ufficiale. Ebbene, nessuno di questi concorsi risulterebbe alla data di ieri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la conseguenziale violazione di un chiaro precetto di legge stabilito. Dimenticanza, errore, non conoscenza di una norma così importante o altro, si chiedono. In tutti i casi, e qualsiasi sia la risposta, il fatto sarebbe di una gravità inaudita e inscusabile, la cui responsabilità oggettiva cadrebbe tutta sul sindaco e assessore che a questo punto non possono in nessun caso lavarsene le mani come loro abitudine e uso, secondo i tre consiglieri di Forza Italia, per i quali ci sarebbero poi altri profili di illegittimità, peraltro già segnalati dal gruppo politico. Sarà interessante capire, aggiungono gli esponenti azzurri, la posizione della lista Bruno che, nel caso di Meta, non ha esitato a dare degli incompetenti all'incolpevole dottor Sirena, a cui rinnoviamo tutta la nostra solidarietà. Insomma, concludono, un disastro amministrativo dietro l'altro, a cui viene davvero difficile stare appresso. L'agricoltura sarda è in ginocchio a causa dei problemi che stanno colpendo un settore sempre più allo stremo, remunerazione dei prodotti da fame, calamità naturali straordinarie, ritardo nei pagamenti dei primi comunitari, incendi, tabelle del gasolio agricolo inadeguate, problemi della movimentazione dei bovini. Tutte difficoltà già denunciate durante il corteo del 1 febbraio a Cagliari, dove 5.000 allevatori, agricoltori e pescatori hanno manifestato sotto il palazzo della regione chiedendo alla politica delle risposte concrete. Difficoltà rimarcate ancora dalla Coldiretti nei giorni scorsi nel corso di una conferenza stampa e la foto appunto si riferisce a questo. Occhi puntati però ora soprattutto sul problema siccità. Il territorio del nord Sardegna sta vivendo infatti una delle crisi idriche più gravi dell'ultimo secolo. I tre bacini principali del distretto Enrico della Nurra sono in grande sofferenza. Anche il prospetto nazionale descrive una crisi idrica diffusa. Secondo un'analisi della Coldiretti condotta sulla base dei dati UCEA, a marzo e aprile le precipitazioni si sono dimezzate. L'assenza di pioggia sta condizionando tutti i settori dell'agricoltura con perdite nella produzione superiore al 40%. Le ripercussioni di questa siccità si faranno sentire anche nella prossima annata, quando gli imprenditori agricoli saranno costretti a sostenere dei costi extra solo per garantire la sopravvivenza dell'azienda. Per questo, Coldiretti Nord Sardegna, chiede con forza alla Regione l'immediato riconoscimento dello stato di calamità naturale con l'attuazione delle agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 102. E ora ci fermiamo per una prima pausa. E Aghiero sta entrando nel vivo della tappa del rally mondiale, che anche quest'anno la vede protagonista e confermata a quartier generale. Si parte oggi alle 18 con l'apertura al pubblico del Service Park, il villaggio ACI e quello Expo, nell'area portuale, dove saranno presenti per tutta la durata della manifestazione gli stand istituzionali e promozionali, il merchandising e le esposizioni. Come da tradizione, anche il Panathlon ha dedicato un interessante conviviale al rally, l'ha fatto omaggiando il giovane equipaggio formato da Giovanni Martinez, che abbiamo intervistato nei giorni scorsi, Giovanni Perisino, che prenderà parte alla manifestazione. Durante la serata abbiamo realizzato alcune interviste. Cominciamo con il presidente del Panathlon Club Alghero, Giuseppe Musu. Musu, il Panathlon Club Alghero celebra un altro evento dopo il Giro d'Italia, il rally Italia Sardegna. Non siete nuovi a questa manifestazione, perché anche l'anno scorso avete voluto parlare di questa importante tappa mondiale che avrà il quartier generale qui ad Alghero. Sì, l'ho rispetto bene. Per l'esattezza è quattro anni che noi seguiamo il rally. Quattro anni che il rally è qui ad Alghero e quattro anni il Panathlon è sempre stato presente. Quest'anno però abbiamo voluto, come posso dire, seguire un tragitto un pochino diverso. Nel senso che abbiamo centrato la serata su due giovani piloti, uno algherese e l'altro sassarese. Insomma, due piloti del territorio che corrispondono a quello che è il tragitto panatletico, cioè risultati sportivi coniugati con risultati scolastici. Infatti sono entrambi, uno è un architetto, l'altro è laureato in economia, è studente di un master alla Bocconi e fanno bene anche nel rally, visto che hanno ottenuto degli ottimi risultati nel rally del Vermentino e questo gli ha permesso di avere dei tempi di qualifica per poter partecipare al nostro rally. Questo è il nostro spirito panatletico e poi è una prosecuzione di quello che noi facciamo con le borse di studio. Non solo giovani ma anche ospiti importanti perché è presente Tiziano Siviero ma anche Turitto che poi è il coordinatore del rally d'Italia. Sì, infatti anche loro sono i nostri ospiti. Tiziano Siviero che ricordiamo sempre è bicampione mondiale di rally, abbiamo anche fatto una bella serata l'anno scorso su di lui, lui faceva il navigatore quando è stato campione del mondo, il pilota era Miche Biasione, l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima serata su di lui per ricordare questi due campioni. E poi Antonio Turitto che invece, come hai detto bene tu, è il coordinatore del rally d'Italia, sarà presente e ci spiegherà un po' che cosa è questo rally, questo grande evento. E oltre ai soci del club algerese, il sindaco Mario Brunan, hanno presenti anche il responsabile organizzativo dell'evento Antonio Turitto e il responsabile del tracciato Tiziano Siviero, abbiamo intervistato anche loro. Tiziano Siviero, non ha bisogno di presentazioni lei anche perché l'anno scorso abbiamo parlato approfonditamente, se così si può dire, della sua carriera, della sua bivittoria mondiale nel rally. L'importante è che il Panathlon Club, una realtà così bella di Alghero, parli del rally d'Italia Sardegna e lo faccia anche guardando ai giovani come accade questa sera. Per forza ci vuole linfa nuova, noi abbiamo già dato, siamo già a posto, per cui è normale che ci siano i giovani ed è la parte bella dello sport. Non c'è mai un campione che dura sempre, c'è sempre uno nuovo che arriva un po' più forte, lo scalza da lì dove è del bello dello sport. Rally Italia Sardegna, fra poco ad Alghero pochissimo si animerà, i motori stanno iniziando a rombare, ma alla fine che emozione è per lei, un uomo di esperienza, un pilota che comunque ne ha visto di tutti i colori? Non ci si abitua mai a queste cose qui, anche perché come tutte le grandi manifestazioni, le grandi organizzazioni, i problemi sono lì, c'è una montagna lì sotto, è come l'acqua che bolle, poi a un certo momento quando si arriva prima della partenza bolle l'acqua e tutti i problemi escono fuori, dal pastore alla pioggia, alla pietra, insomma risolveremo come tutti gli anni. Per parlare e entrare nel vivo del Rally Italia Sardegna, questa etapa mondiale che vede come l'anno scorso il quartier generale è qui a Alghero, Antonio Turito, manca veramente pochissimo. E sì, oggi sono in corso le ricognizioni che finiscono domani e quindi dopo domani pronti via. Giovedì alle 17 la partenza da Bastioni Magellano, poi Ittiri, poi Olbia, ci siamo. Dopo mesi e mesi di lavoro di tutti noi della città di Alghero, della Sardegna, ci siamo. Alghero è felicissima di ospitare il Rally Italia Sardegna, gli algheresi e anche gli abitanti dei comuni vicini rispondono benissimo a questa manifestazione. A voi piace Alghero? Sicuramente sì, si sta bene, è una bella città, molto accogliente, molto ospitale anche per quanto riguarda la messa a disposizione delle sue strutture. Si mangia bene, si dorme bene, si fa un buon bagno, tutto molto positivo. Spegniamo una parola per la serata che il Panathlon riserva sempre al Rally Italia Sardegna. Beh sì, ormai è stata una tradizione di quelle iniziative a cui non si può rinunciare. Infatti noi tutti gli anni chiediamo al Presidente se l'ha organizzata, perché se non lo ha fatto lo obblighiamo. E proprio in occasione del Rally Italia Sardegna, la sezione algherese dell'Avis, con il centro trasfusionale dell'ospedale civile di Alghero hanno organizzato delle raccolte di sangue straordinarie. In programma da domani e fino a sabato, tutte le mattine dalle 8 a mezzogiorno, l'auto emoteca con l'equip medica sarà in largo San Francesco, fianco della torre di San Giovanni. Il circolo fotografico, le conce di Alghero invece, organizza una mostra collettiva dei propri iscritti, che avrà come tema le edizioni degli anni scorsi del Rally Italia Sardegna. Oltre a spettacolari immagini di gara, verrà mostrato ciò che accade nel Parco Assistenza durante i rifornimenti e in diverse altre situazioni dell'evento motoristico. La mostra sarà visitabile ad Alghero, nella torre di San Giovanni in largo San Francesco, da oggi sino al 12 giugno prossimo. Gli orari di apertura saranno la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 18 alle 24, quindi sino a mezzanotte l'ingresso è gratuito. In otto anni il circolo, che ha sede in Vicolo del Teatro 7, ha organizzato oltre 20 mostre, non solo ad Alghero, ma anche in altri centri dell'isola. Ci fermiamo ora per un'altra pausa. E domani, per l'ottavo anno consecutivo, il Centro Sociale in Pegno Rurale organizza insieme ai docenti del presso scolastico di Santa Maria La Palma e il personale ATA, in collaborazione con associazioni sportive di volontariato del territorio, la manifestazione sportiva Bimbici 2017, giunta appunto all'ottava edizione. Il percorso, accessibile a tutti gli alunni, sarà lungo circa 10 km. Andata e ritorno si snoderà tra le caratteristiche strade del territorio delle Borgate, attraversando Villa Assunta, per raggiungere il Centro per l'Educazione Ambientale, la sostenibilità nel lago di Baraz del Comune di Sassari, che rende gentilmente disponibile la struttura a tutti i partecipanti. Dopo la merenda e un meritato riposo, si riprende la strada del ritorno per raggiungere nuovamente la Borgata di Santa Maria La Palma. La manifestazione è patrocinata dal Centro Sportivo Italiano, sezione di Sassari. La partenza è prevista per le 9.30. Dalla piazza della Borgata di Santa Maria La Palma, per chi fosse sprovvisto della bici, potrà noleggiarla direttamente in Borgata tramite il servizio dell'azienda Baraz Rent a Bike. Per ulteriori informazioni si può chiamare il numero 328-09-76-769. Parliamo ora di sport giovanile, perché ieri nel campo delle Tigri, giornata finale del progetto Baseball a scuola che passione, con tutti i bambini delle scuole dei comprensivi numero 1 e 2 di Alghero. C'eravamo anche noi con la nostra telecamera, abbiamo intervistato il presidente delle Tigri Baseball, Tore Cherchi. Buongiorno, oggi abbiamo fatto nel nostro campo sportivo delle Tigri Baseball, abbiamo attuato la giornata finale del progetto Baseball a scuola che passione, con le scuole della Mercedes e della Pietraia del secondo circolo, unicomprensivo, con tutti i genitori e le maestre presenti. È stata una bella giornata, non di sole, ma forse anche di acqua, però una bella giornata di sport, dove tutti i bambini hanno finalmente provato a giocare in un campo da baseball, in Erbetta e in Terra Rossa, messo a loro disposizione proprio dalle società. Tigre e Catalana, che hanno presentato questo progetto scolastico da ormai 8 anni. Per noi è stato un grande successo di persone, di bambini, siamo soddisfatti soprattutto di aver mostrato ai genitori qual è la nostra valenza di questo progetto e l'opportunità che le Tigri Baseball e la Catalana stanno andando per far crescere il baseball nella città e nelle scuole cittadine. Grazie anche all'Avis di Alghero che ci ha donato le coppe e alla vita al dente che ci ha dato la disponibilità di fare questa manifestazione. E grazie anche a CatalanTV che si è venuta a trovare come gentilmente e spesso fa. Grazie a tutti. E per oggi è davvero tutto, ora come sempre le prisioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.